Il Consiglio regionale che si apre al capoluogo di regione, alla città dell'Aquila, che in qualche modo aiuta e favorisce la costituzione dell'ultimo quarto mancante della tradizione storica della nostra città, quello di San Giovanni, già quarto di San Marciano per me che ho una certa d'aura, ma in particolar modo ci sono dei ragazzi dell'Associazione dei Tesori del Borgo che hanno tra i 18 e i 20 anni che si sono fatti promotore di voler costituire, riscoprire l'attività tradizionale identitaria della città dell'Aquila. A questi ragazzi va un plauso perché da sempre hanno sempre partecipato al corteo storico e oggi si vogliono impegnare in prima persona e questo dato è ancora più importante in una città che ha subito un evento distruttivo come quello della città dell'Aquila del 2009 e in qualche modo questi ragazzi che oggi hanno 18-19 anni vogliono anche riscoprire gli angoli, i sapori, i profumi di una città che sta rinascendo. Identità, tradizione e appartenenza sono i caratteri che non possono essere sinaturati e non possono essere cambiati, ce l'ha data la storia, sta a noi valorizzarli e a renderli attuali al contesto di oggi. Quindi un plauso a questi bellissimi ragazzi che si sono messi in discussione in prima persona per poter rilanciare la nostra città nel prossimo futuro.